eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty buongiorno ragazzi buon inizio di settimana come sempre prima di iniziare vi invito a lasciare subito un bel mi piace e ad iscrivervi al mio canale per non perdere tutte le prossime novità sul mondo di call of duty primo link in descrizione troverete invece la mia collaborazione con ebba ogni acquisto che farete tramite quel link sul sito dove troverete prezzi pazzeschi praticamente supporterete il mio canale ma troverete videogiochi scontati sia nuovi che vecchi le gift card abbonamenti xbox e playstation per giocare online e tenetevelo da conto per qualsiasi acquisto anche quando invece dovete fare gli acquisti su amazon vi ricordo o li fate direttamente sul mio canale delle offerte di telegram mi raccomando iscrivetevi oppure ogni volta che devo comprare una qualsiasi cosa su amazon passate sempre dal mio canale delle offerte cliccate da uno dei link affiliato vi si apre amazon cercate il prodotto che dovete comprare lo comprate a voi non cambia letteralmente nulla a livello di prezzo invece in quel modo supporterete il mio canale tramite l'affiliazione intanto ieri sera ragazzi per chi me l'aveva chiese per chi me l'avesse chiesto sono arrivati i dinosauri all'interno di call of duty è arrivata la nuova skin o meglio la nuova ultra skin code a saurus all'interno dello store di warzone ed mv3 vi ho messo anche il trailer nelli shorts intanto ci avviciniamo sempre di più alla season 3 reloaded vi lascio in alto a destra intanto il video che vi ho fatto con le novità principali attese poi a ridosso del primo di maggio tornerò con un video con tanti nuovi approfondimenti vi dirò il peso dell'aggiornamento e tanto altro ancora comunque alcune delle unità più interessanti della season 3 reloaded così vi do quest'altra chicca ancora più specifica sono dei nuovi kit di trasformazione dei nuovi kit di conversione delle armi sempre in arrivo nella season 3 reloaded e parliamo di wardens del jack revenger e del jack atlas wardens permetterà di trasformare il kv broadside in due fucili a pompa a kimbo come in model 1887 il jack revenger trasformerà il pb50 che come sapete è un fucile d'assalto precisissimo in un smg e poi il jack atlas che trasformerà la mr9 in un'arma a raffica di cinque colpi come era l'aviazione di av poi nei prossimi giorni vi darò anche qualche altro kit di conversione in anteprima intanto ieri optic gaming ha annunciato che ospiterà l'evento del campionato della call of duty league del 2024 dal vivo dal 18 al 21 di luglio presso il credit union of texas event center sempre per quanto riguarda il championship weekend 2024 ma parliamo invece dei leaks che queste ore stanno trapelando per quanto riguarda code 2024 già ne parliamo veramente da tantissimo tempo arrivato questo articolo in questi giorni che ho voluto in attimo approfondire è stato riportato dalla nota testata a videogamer dove vengono praticamente indicate oltre 100 arm di call of duty 2024 strict perk e tanto altro ancora andiamo a leggere quest'articolo activision rivelerà presto call of duty 2024 il rapporto indiano che potrebbe accadere prima dell'evento quindi showcase dell'xbox a giugno ed è naturale che i fan siano davvero entusiasti di ciò che activision sta segretamente preparando il multiplayer sarà ovviamente la modalità di gioco principale con oltre 100 armi a quanto pare perk vantaggi e tanto altro si dice che l'imminente code si chiamerà black ops golf war e le fughe di notizie indicano che la campagna è pronta e sarà la migliore di sempre c'è forte possibilità che call of duty 2024 potrà essere gratuito migliore dei giocatori del primo giorno per il fatto che come sapete potrebbe arrivare su l'xbox game pass sostituirà modern warfare 3 in questa esistenza con warzone e i fan dovrebbero essere in grado di godere di una beta multiplayer prima del rilascio ma andiamo a vedere questi leaks che sono trapelati in queste ore al momento activision non ancora ha commentato la notizia vediamo un po parliamo dei fucili d'assalto l'eftac light il cast of 74 vicino ragazzi troverete anche la versione è relativa come conoscete l'arma perché come sapete per fatto per il dei diritti dell'arma e quant'altro ci saranno tantissimi nuovamente tanti nomi di fantasia il krig 5 l'emme 16 l'emme 4s l'erre 2 il sa 87 l'sr 8 e il vap 9 che sarà appunto come state vedendo poi nella riga la s val vediamo l'smg con l'mr 9 l'fmg 9 il cast of m l'acman sub quindi l'mp 5 l'md 97 l il raptor 9 il vap 2 il vap 3 e il voktar vediamo invece i fucili da battaglia c58 il cast of 73 l'enna 57 e il tac f poi avremo il cam rs il cast of 97 l'enna al 550 l'mk 18 il famoso tempus torrent il vap m mentre come cecchini avremo il dracunov che si cast of m l lv3 tundra il ratio m il ratio p mentre come mitraglione avremo l'ip 545 l'rc 308 il sub h il sub l come pomponi quindi come fucili a pompa avremo l'm500 l'ocp 500 l'olimpia il roku 360 il super short mentre come pistole la dianolli che è la famosa berretta immancabile del mondo di black copse il gp 13 auto il l'h30 il l'h45 il l'h9 la sikov e il tac and held che sarebbe la 5 7 come lanciatori il low il panzersfauce e lo stinger mentre come armi corpo a corpo ragazzi il bridge tool e il coltello da lancio e lo scout knifed quindi queste a quanto pare sembrerebbero essere le armi che troveremo nel gioco ovviamente ragazzi man mano verranno rilasciate nel corso delle settimane dei mesi perché non si è mai visto un code che venga lanciato con oltre 100 armi qui invece potete vedere ragazzi sempre tutti i vari perk che a quanto pare saranno all'interno del gioco saranno tantissime come il doppio tempo come il fantasma che è immancabile tornerà a quanto pare anche qui ninja avremo l'overkill avremo il quick fix quindi praticamente la ricarica anche rapida con l'overclock avremo lo scavenger quindi lo sciacallo avremo il survivor underkill quindi sembrano che nuovamente anche in questo caso ci saranno tantissimi perk vediamo gli equipaggiamenti letali con il c4 la granata cluster il combat axe quindi la lascia poi avremo l'impact granite la molotov la semtex termite la granata termobarica mentre come equipaggiamenti tattici avremo le mp immancabile l'alarme di prossimità la granata smoke la granata che stunna poi vediamo un attimo anche i field upgrade quindi i potenziamenti da campo con la maschera antigas che tornerà il jammer quindi tante cose che ovviamente saranno anche legate al periodo storico come sapete della guerra del golfo e poi sembrerebbero che stiano trapelando anche le streak con addirittura il punteggio che servirà tornerà l'immancabile e odiosissima macchinetta l'rc xd poi avremo lo spy plane che ovviamente è l'ov e tante altre skin come l'artiglieria come il missile hellstorm come la macchina quindi la war machine che veramente ce la ricordiamo anche dai passati la torretta sentry l'arp la nuke che a quanto pare sembrerebbe essere confermato in questo caso da 30 kg e addirittura la strike di gas e questo ragazzi a quanto pare sembrerebbe che siano tutte le varie informazioni che sono trapelate in queste ore e in questi minuti su quello che sarà code 2024 al momento però non c'è nessuna conferma ufficiale da da activision e se ne sta parlando anche pochissimo in rete ma dato che era un articolo molto interessante videogamer abbiamo visto in passato che ha indovinato anche diversi leaks sul mondo di color video era giusto parlarne fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate supportate il video con un bel mi piace iscrivetevi se siete nuovi e mi raccomando e neba il canale delle offerte per supportarvi e noi ci vediamo ad un prossimo video